La quarta ondata sta finendo in Umbria e nel resto del paese. Lo sostiene il professor Luca Gammaitoni, ordinario di fisica sperimentale all'Università di Perugia, che commenta ai nostri microfoni l'andamento della pandemia in regione. Siamo messi bene, siamo messi molto bene perché la quarta ondata sta finendo, quindi siamo nella parte discendente della curva, ci sono ancora un certo numero di casi positivi in Umbria, ma man mano che il tempo passa questo numero diventerà via via più piccola fino a raggiungere pochissime unità se non lo zero. Tenete conto che qualunque fenomeno di questo genere è caratterizzato da fluttuazioni, quindi è normalissimo che oggi ci siano zero contagi e domani ci sono cinque nuovi contagi. Certo, non è normale che oggi ce ne sono zero e domani ce ne sono mille, chiaro? Quindi dobbiamo assentarci comunque delle fluttuazioni, ma di fatto il fenomeno della quarta ondata si sta esaurendo in Umbria e anche nel resto del paese in Italia. L'Umbria è un pochino più avanti temporalmente nell'evoluzione del processo. L'ondata attuale è la prima in cui la curva dei contagi decresce dopo il suo picco senza un lockdown, ciò grazie alla vaccinazione. Nei modelli matematici si vede immediatamente che l'epidemia è caratterizzata da queste tre fasi. Una fase di crescita esponenziale molto veloce che è dove il virus tende a dilagare. Poi quando cominciano a scarseggiare le persone da infettare si addolcisce la crescita e si raggiunge un massimo, cioè il picco della curva, e poi comincia a diminuire. Ogni volta che abbiamo messo il lockdown poi si è raggiunto il picco. Quest'anno invece, diciamo nella primavera-estate, si è raggiunto il picco senza che sia stato messo un lockdown. Questo è un bellissimo segno perché vuole dire che il numero delle persone da infettare si sta riducendo, cioè l'epidemia perde forza perché non ci sono più persone possibili da infettare. E perché questo avviene? Perché abbiamo vaccinato. Cioè questa è la migliore dimostrazione che la vaccinazione di massa effettivamente è stata efficace nel ridurre l'epidemia. Il calo di questa curva è ancora relativamente lento perché è vero che ce ne sono poche di persone di infettare. Ma non sono zero, perché ci sono ancora persone che non sono vaccinate. Quindi quelle persone che non sono vaccinate in un certo senso rallentano il calo dell'epidemia. Però siamo abbastanza fiduciosi che questo calo continuerà. C'è dunque ottimismo per i mesi a venire e potrebbe essere sempre più vicino il ritorno ad una sospirata normalità. Allora io mi sono sbilanciato già diversi mesi fa dicendo che questa quarta, diciamo, ondata probabilmente è l'ultima. Se non ci sono fatti nuovi importanti, un fatto nuovo importante, per noi molto pericoloso, è la nascita, la creazione di nuove varianti. Se venisse fuori una nuova variante in Italia o altrove resistente agli attuali vaccini, questo sarebbe un serio problema perché bisognerebbe praticamente ricominciare la lotta contro il virus. Affinché non ci siano nuove varianti è per questo anche necessario che ci sia il più possibile di persone vaccinate. Più sono i vaccinati, meno il virus si replica, perché è vero che anche un vaccinato può essere contagiato dal virus, ma la capacità di replicazione, cioè il numero di volte che si replica il virus in una persona vaccinata è bassissimo rispetto a una persona non vaccinata dove la malattia invece ha la sua massima espansione.